ciao a tutti e bentornati oggi nessun gameplay ma piuttosto la prova di un microfono usb omnidirezionale che ho voluto portare sul canale per verificare se diciamo è possibile con un microfono di pochi euro poter registrare la propria voce o utilizzarlo durante una diretta in gameplay in modo diciamo sufficiente modo tale da non dover spendere troppi soldi magari per chi ha il proprio figlio un ragazzino che vuole iniziare un pochettino a girare qualche video su youtube e quindi non non si iniziano a spendere migliaia di euro per registrazioni più professionali quindi il microfono di cui vi parlo è questo qui il nome lo vedete qui perché non saprei pronunciarlo ed è fatto in questo modo a una presa usb di tipo a da collegare tranquillamente vicino al computer è dotato di un interruttore per accenderlo e spegnerlo è dotato di una banda led che ne indica l'accensione poi abbiamo qui un'asta che è regolabile e poi abbiamo qui il filtro antifruscio e questo è vero e proprio microfono ops mi è caduto il filtro rimettiamolo a posto allora come si sente questo microfono bene allora ve lo voglio far sentire in modo tale da trarre voi stessi le conclusioni prova microfono usb questa è la qualità del suono che potete ben sentire tutto sommato non è male la voce è ben chiara però essendo omnidirezionale cattura anche tutti i rumori che gli sono attorno ora io nella stanza con me non c'è nessuno nell'altra stanza ci sono i bambini che stanno giocando non so se si sentono se verranno nella registrazione le loro voci e fuori si sente il rumore delle cicale o il balcone aperto quindi i vari rumori che potreste sentire anche in sottofondo leggeri sono da attribuire a questi altri elementi allora avete sentito come si sente il microfono usb e potete sentire come si sente quello della videocamera o meglio questo che ho qui e quindi le differenze tra i due allora io ho sentito l'audio come viene riprodotto naturalmente prima di fare questa recensione l'ho provato per diversi giorni è buono va bene può andar bene a patto che non ci siano troppi rumori attorno a sé e la voce risulta ben chiara con rumori attorno è facile che si possano sentire quindi si potrebbero dar fastidio an eventuale registrazione quindi non è per un utilizzo professionale ma chi non vuole spendere troppo perché ha solo l'esigenza ogni tanto di pubblicare qualche gameplay o parlare in qualche chat online secondo me può andar bene sono costa 15 euro e 99 alla fine ho scelto questo non è il più economico era tra quelli più economici mi ha tratto per anche il modo di regolare il led non lo so era semplice ho voluto ho voluto acquistare questo se non vi serve nulla di professionale si lui può andare ricordatevi è omnidirezionale quindi cattura tutti i suoni nel vostro ambiente circostante del vostro ambiente circostante quindi quando dovete fare registrazioni se non volete che altri sentano altre cose ricordatevi che ci deve essere quanto più silenzio possibile lasciate un mi piace se vi è piaciuto il video condividete il canale sulle baccheche dei vostri social iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto ci vediamo per il prossimo video ciao e buona giornata ciao 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 ciao